Ormai è lui la mina vagante nella corsa alla prossima poltrona di sindaco. Dopo qualche mese di silenzio Pietro Fazzi torna prepotentemente sulla scena politica anche se ad oggi ufficialmente non ha ancora sciolto la riserva. La chiamata gli è arrivata due settimane fa dall'Udc. Il partito di Casini ha bisogno di una candidatura autorevole per presentarsi con le carte giuste al tavolo delle trattative e Fazzi non ha detto no. Ha preso tempo perché rimettersi in gioco lo costringerebbe a riorganizzare l'attività professionale come promotore finanziario a cui si è dedicato dopo l'uscita di scena del 2007. L'eventuale ritorno di Fazzi crea fibrillazioni al centro. Piero Angelini con la sua governare Luca ha chiaramente detto di non essere disponibile ad appoggiarlo. Ma chi rischia di pagare lo scotto più pesante è Luca Leone che di Fazzi è stato leale e convinto assessore. Proprio Leone era stato il primo a contattare l'ex sindaco per coinvolgerlo nel suo progetto politico ma non se ne fece di nulla e adesso un'eventuale candidatura dell'ex sindaco nelle file del partito di Casini creerebbe non pochi imbarazzi alla nascente lista civica denominata impegno comune. Dunque restano ancora parecchi tasselli da inserire per comporre il mosaico con PDL e PD ormai decisi a mettere in campo i due leader il sindaco uscente Mauro Favilla e il capogruppo in consiglio comunale Alessandro Tambellini. La partita si sposta al centro dove per esempio il FLI resta ancora alla finestra per capire se Fazzi scioglierà o meno la riserva. Per capirci di più arrivederci alla prossima settimana.